marshmallow arrostiti buonissimi schiacciali ritaglia il carta modello aggiungi dei rilievi in forno fatto che colore rosso il secondo controller è blu colora la custodia e lo schermo dipingi pulsanti cos'è plastica olografica la nintendo switch ti immerge nel mondo dei giochi entusiasmanti barbie entra in soggiorno sono così annoiata cosa posso fare ho giusto la nintendo switch giocherò un po un altro livello un altro la pubblicità ok guardiamola incontra megan l'androide o è così carina ne comprerò sicuramente una adesso aspetto il corriere scegli una bambola andrai dall'alilu facciamo una nuotata pulisci la faccia disegna qualcosa di nuovo pensiamo ai capelli il biondo le sta bene tagliali e poi stirali dipingi il corpo di bianco strisce sulle maniche delinea il modello del vestito pittura il tessuto con la pittura acrilica è un vestito aggiungi i bottoni taglia il colletto un fiocco carino che miracolo un look elegante megan è felice la fabbrica di giocattoli è in piena attività oggi è un giorno importante proviamo a creare un nuovo giocattolo l'android e megan niente errori prendo i materiali li carico nella macchina e via ora aspettiamo la professoressa si distrae con il giornale c'è del fumo ecco il primo modello di megan o è pronta o carina alza le mani funziona alla grande è ora di impacchettarla una scatola vieni piccola antonio sì dobbiamo portare megan nella sua nuova casa o sfida ascettata dovrebbe essere qui c'è una consegna dalla fabbrica di giocattoli è ora di spacchettare la mia nuova migliore amica ciao tesoro fai come fossi a casa tua barbie è felice della sua nuova bambola facciamo partire il trasportatore il robot ha preso il piatto vieni qui il tuo berretto soddisfatto colore il dettaglio plastica trasparente ottimo aggiungi le tacche di carica e poi i pulsanti la stazione di ricarica ti aiuterà a controllare l'energia della tua bambola androide la famiglia si sta preparando per la cena megan aiutami con i piatti va bene troppo in alto ho un'idea megan ha portato il caricabatterie obiettivo raggiunto oh grazie tesoro wow serviti non ho fame un cagnolino oh gli amici hanno iniziato a giocare ad acchiapparella ops la bambola è scarica oh megan è ora di caricarti ognuno mangia a modo suo una nuova bambola trasformiamola in megan ritaglia le maniche a righe mettile le calze scambia il vestito con la bambola e un colletto con fiocco ovviamente dipingi i dettagli e dei nastrini perfetto prendi una cannuccia un pezzo di pellicola i bigodini e il trucco ma certo sopracciglia disegna i dettagli trucco impeccabile usa un asciugacapelli oh bei capelli l'adolescente megan è irresistibile megan è al computer tutto il giorno smettila di giocare ora di prepararsi per la scuola farei tardi non sarò in ritardo il tuo zaino è vuoto un portatile potrebbe tornarti utile e anche il tablet oh non ci stanno allora prendi i quaderni sono un libro ambulante non mi servono una cartelletta è sufficiente ora vado o crescono così in fretta prendi una lanterna da giardino rimuovi la lampada la palla è più piccola prendi un bastoncino di colla a caldo aggiungi i raggi copri con la lampada piccola 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 picc casalingo! Ed ecco il pezzo più incredibile! Una palla al plasma! Potete toccarla! Wow, super! Troverò anch'io! Gli occhi dell'Android si illuminano! La ricarica funziona! Molto comoda! Lavoriamo sul tronco! Bastoncine di legno! Fai le tacche! Taglia! Dagli una forma! Dei dettagli! Crea una scatola! Fissa la maniglia! Colora la cassetta! Il cartone a specchio è utile per gli strumenti! Ritaglia le chiavi! Il robot ci aiuta con gli strumenti! Puoi aggiustare qualsiasi cosa con questo set! Ragazze, è il vostro momento! Ballate! Le ragazze stanno facendo le prove! I loro movimenti sono perfetti! La spaccata finale! Quando all'improvviso qualcosa va storto! Megan, continua! Cosa c'è che non va? Non posso muovermi! Sembra che io sia bloccata! Cosa sta succedendo? Megan è bloccata! Chiamo il tecnico! Super Mario è qui! Chi ha bisogno di aiuto? Vediamo! Stringiamo le cerniere! Un po' di olio! Come va adesso? Mi hai aiutata! Ora sono più flessibile che mai! Yeah! Possiamo esibirci! Incontriamo la nostra nuova bambola! Lavagli la faccia! Rimuovi i capelli! Velini agli occhi e le sopracciglia! Aggiungi l'ombretto! Trucco perfetto! I miei capelli! Wow! Così va meglio! Grazie! Ritaglia il cartamodello! Disegna le strisce! Collanti inclusi! Tieni! Wow! È meraviglioso! Super! I vestiti sono pronti! Il mio vestito preferito! Prendi il tessuto blu! Aggiungi i modelli! Ritaglia! Cuci un cappotto elegante! La pelliccia tornerà utile! Provalo! Non ci sono abbastanza bottoni! Luke è eccellente! Posso dare un'occhiata! Wow! Mi piace davvero! Megan ha ottenuto un lavoro in laboratorio! È riuscita a ripulire prima dell'inizio della giornata lavorativa! Wow! È bello e ordinato! Ho fatto un buon lavoro! Da dove inizio? Mettiamo il camice! I reagenti sono a posto! Va di roba che è corso dentro! Signorina, se non è guai! Vieni qui! Cosa c'è? Rimederò tutto! Entra nella capsula! Dove sono i dettagli? Questi andranno bene! Chiudo! Al lavoro! Controllerò le formule! All'improvviso appare un nuovo robot! Ce l'hai fatta! Ora ho un nuovo supercorpo! Wow! Ti sta bene! Grazie signorina! È andata alla grande! Dividi il polistirolo! Lima i bordi! Incolla la parte posteriore! Ritaglia un piccolo pezzo! Evoca uno stand! Colora di nero! Copri con il metallo! Triplo monitor! Fai una tastiera! Wow! Alla retroilluminazione! Poi l'unità di sistema! Color metallo! Parete laterale con ventilazione! Inserisci il pannello luminoso! Questo potente computer è in grado di svolgere qualsiasi attività! Andiamo al laboratorio di Megan! Un altro errore di sistema! È ora di cambiarlo! Pronto? Voglio ordinare un computer! Signorina, il tuo ordine è arrivato! Addio vecchio portatile! Ci sono dei nuovi monitor sul tavolo! Divertiti! Il mio sogno! Avvio il processore! È ora di mettersi al lavoro! È ora di pranzo! Non ho bisogno di cibo! Preferirei giocare! Devo andare più veloce! Evviva! Ho vinto il gran premio! Che bella giornata! Dividi la sfera! Hai bisogno di una mezza sfera trasparente! Prendi l'imbottitura! Cospargi con i coriandoli dorati! Glitter giallo! Ritaglia il cerchio! Bottoni al posto delle ruote! Avvolgi il corpo in uno scovolino! Fissa il pannello! Pulsanti di controllo! E un paio di antenne! Cambiamo! Così va meglio! L'aspirapolvere robot è pronto per l'uso! Megan si è svegliata nel suo soggiorno! Ho fatto un pisolino di un minuto e mi sono svegliata con questo casino! Il mio aspirapolvere robot è in grado di gestire tutto! Il mio piccolo aiutante! Il robot inizia a pulire! Che strano rumore! Oh! Il poveretto si è bloccato a causa della spazzatura! Non preoccuparti! Ti aggiusterò! Dove sono i miei strumenti? Li ho trovati! Adesso sei a posto! Il robot non vuole lasciare andare la proprietaria! Va bene! So cosa vuoi! Diamo un'occhiata a queste divertenti istruzioni! Poi puliamo insieme! Dobbiamo creare una Megan! Aggiungi la testa! Perfetto! Togli le codine! Dei capelli folti fatti di nastri! Dipingi calze e maniche! Vesti la bambola! Lo scovolino ti aiuterà con i ricci! Piccola Megan! Piacere di conoscerti! Questo negozio di giocattoli è pieno di oggetti interessanti! Come posso aiutarti? Cerchiamo un giocattolo originale! Wow! Un grande Pikachu! È un giocattolo davvero raro! Vuoi comprarlo? No! Continuerò a cercare! Wow! Una macchinina! Coccodrilli! Sto nuotando! È ora di decidere cosa vuoi! All'improvviso Katie nota una bambola insolita! Wow! Che bella bambola! Ciao! Sono un androide di nome Megan! Vuoi che sia tua amica? Wow! Zietta! Ho fatto amicizia! Fai amicizia in fretta! Yeah! Impasta un pezzo! Avvolgilo nell'eco pelliccia! Taglia! Un sorriso! Ecco le gambe! Sì! Questo pelusino è carinissimo! Le ragazze stanno giocando a un nuovo gioco sul tablet! Puoi controllare questo animaletto direttamente attraverso il display! Diamogli da mangiare! Megan vuoi provarlo? Sì! Interessante! Altro cibo! Ops! Qualcuno l'ha fatta! Oh oh! Va tutto bene piccolo! Oh! Il tablet ha esaurito la batteria! Il pelusino è caduto! Avevamo appena iniziato! Non preoccuparti! Posso caricare il tablet! Evviva! Ha ripreso vita! È ora di dormire piccolo! È così dolce! Le ragazze si divertono tanto insieme! Prepara delle stampe di fumetti! Piega la copertina! Incolla i fogli! Mettili in un raccoglitore! Questa raccolta di fumetti farà immergere i bambini nel mondo delle principesse Disney! Cheddy non riesce a dormire! Oh! Ho un'idea! Vuoi leggere prima di andare a letto? Cerco i fumetti! Ok! Ah ah! Eccoli! Wow! La mia collezione preferita! Amano leggere storie! Hanno letto fino alla fine! Anch'io voglio essere una principessa! Possiamo farlo! Corona il vestito! Wow! Sono una vera principessa adesso! Si sta facendo tardi! È ora che tu vada a dormire! Le ragazze si sono divertite! Dormi bene! Megan si assicurerà che nulla disturbi Keddy! Ciao Lalilu! Cominciamo con l'outfit! Aggiungi le maniche! Mettile le calze bianche! Aggiungi un colletto! Disegna le strisce! Profonda immersione! Cancella gli occhi! Sopracciglia! Lava via il rossetto! Megan sta diventando grande! Anche gli androidi crescono! Le ragazze si stanno rilassando nel parco! Vorrei sapere andare in bicicletta! Non preoccuparti! Ti insegno io! Siediti! Ho paura! Ti tengo io! Posso farcela da sola! Oh! Troppo veloce! Oh! Oh! Ballare ti renderà felice! Megan è saltata verso Keddy! Dammi la mano! Andiamo! Megan si mette al volante e Keddy si siede sul portapacchi! Ora si divertono e sono al sicuro! Sei la migliore amica del mondo! Le amiche si abbracciano! La macchina si è fermata! L'androide l'aiuta! Il camion si è trasformato nel robot Bruce! Manca la testa! Dipingi la plastica di blu! Che robot incredibile! Mani! Aggiungi i cavi! Bruce può essere controllato con dei guanti magici! Gemma è nel suo laboratorio! Devo finire il progetto! Controlliamo i calcoli! È ora di fare un esperimento! Giacchi con noi, zia! Uh, no! Per favore! Abbiamo bisogno di un terzo giocatore! Ragazze, mi piacerebbe ma ho tanto lavoro oggi! Per favore! Forse possiamo aiutarti! Ho un'idea! Ho un altro robot in giro! Vi terrà compagnia! Riparerò questo poveretto in men che non si dica! Gemma si mette al lavoro! Un minuto e ha finito! Guardate ragazze! Questi sono dei guanti speciali! Con loro potete controllare Bruce! Wow, interessante! I nostri movimenti sono sincronizzati! Posso connettermi con lui senza guanti! Wow, è ancora meglio! Megan abbiamo un nuovo amico! Prendi un set di pennarelli Cannucce sottili Prendi la cannetta Mettila nella cannuccia Riempi con la colla a caldo Fai dei design unici Incolla il supporto Metti pennarelli in fila Il sogno dei giovani artisti A inizio la lezione di disegno Bambini, preparate i materiali! C'è un nuovissimo set di pennarelli sulla scrivania! Mostrate la vostra immaginazione Lasciate viaggiare la fantasia! Le ragazze hanno iniziato a disegnare Anche Megan sta creando qualcosa Gli studenti se la stanno cavando bene Guarda, è una principessa! E io ho un paesaggio! Ben fatto ragazze, è bellissimo! Che di come va? Non lo so, non mi piacciono queste matite Tesoro, non arrabbiarti, andrà tutto bene! Prova a disegnare con questi pennarelli! Basta usare l'acqua Guarda, disegni Versi dell'acqua E voilà! Com'è possibile? Anche io posso essere un'artista con dei pennarelli come questi Ha funzionato! Prato! Bel lavoro, Kady! Organizziamo una mostra di disegni Megan è diventata grande Cambiamo la faccia Fai i dettagli Applica il rossetto Cambiamo i capelli Oh, ti stanno bene! Arriccia i capelli con la piastra Ti taglieremo un nuovo cappotto La parte sotto Aggiungi la parte superiore e le maniche Questo cappotto si adatta perfettamente Decora con bottoni di perline Collo di pelliccia Il look di Megan da adulta è completo Che bellezza! Megan vive da sola Ah, quanto lavoro oggi! È ora di prendersi una pausa Vado alla caffetteria Si mette il cappotto Il vento e il freddo non mi disturbano Grazie LaliLoo per questo splendido look Ciao! 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 È un self-service? Preparo una tazza di cioccolata Non è difficile Mi sono collegata alla macchina del caffè Cioccolata Un cappuccino per favore Oh, questo tavolo è occupato Sì? Oh, scusa per averti disturbata Tranquillo, sono Megan Io sono Steve È una stretta di mano decisa Dopotutto sono un androide Non capisco quale sia la differenza Androidi umani Niente di che Sei super cool e intelligente E ora sono una coppia felice Prendi un portachiavi rotto Fai un gatto Attacca la coda Questo è il nostro simpatico gatto robot Le ragazze stanno giocando con gli animali nel parco Megan guarda da lontano Steve ha notato che le sta guardando Oh, vorrei anch'io un animale domestico Megan ha un regalo per te Ti renderà felice Oh, è un gatto robot Che carino Megan ha lasciato andare il suo animale a giocare con gli altri Si piacciono Che bella razza Megan è felice Questo gatto robot è perfetto per lei Smonta una boccetta Un po' di argilla leggera Fai dei buchi per gli ugelli Ora è arancione Il set di cacciaviti è sempre a portata di mano La coppia ha un appuntamento romantico Megan sta aspettando Steve Ho deciso di venirti a prendere in macchina Che entrata spettacolare Partiamo all'avventura Ops, la macchina si è rotta Non capisco cosa c'è che non va L'ho fatta ispezionare di recente Aspetta, ho sempre un set di cacciaviti con me Megan sta riparando il motore Ora possiamo andare Steve è scioccato Mettiamoci in viaggio Questa fabbrica di dolci è molto impegnata Scopriamo il processo di produzione Stop, questo non va bene Buttiamolo Servirà a noi Salviamo questo cupcake Il gusto alla fragola è il mio preferito Sistema Disegna gli occhi Aggiungi i denti Ricopri con la glassa glitterata Un dolcetto mostro La mamma cucinerà qualcosa di dolce Farò per la mia famiglia del cibo squisito Stendo la pasta Mamma, cosa stai cucinando? I cupcake, vuoi aiutarmi? Certo È interessante Allora siediti Aggiungiamo un po' di latte Ho un'idea Mentre la mamma è distratta Mescola degli ingredienti insoliti Wow, la pastella è rosa Che ricetta interessante In forno Mamma e figlia stanno chiacchierando Ops, da dove viene il fumo? Oh, chi c'è? Il cupcake è vivo Oh no, ho aggiunto per sbaglio la pozione magica Diventiamo amici È pericoloso Oh, che carino I miracoli possono accadere ovunque Questa carta è troppo sottile Premila Fai una scatola Colorala di blu Abbiamo fatto una stella Decora la parete Il gatto ha affilato gli artigli Copri la scatola con del soffice feltro Riempi con l'argilla leggera Ridipingi gli spiedini Attenzione! Denti affilati! Accorcia la cannuccia Polistirolo e argilla leggera Delle zampe carine Prendi della gomma piuma Attorciglia il filo di ferro in una spirale Braccia a molla Il mostro è in piedi Questo giocattolo non sta mai fermo Le ragazze stanno chiacchierando nel parco Ciao! Perché state sedute lì? Giochiamo a basket Inizio io Vi faccio vedere come si fa Lancio! Yeah! Canestro! Tocca a me! Ops! La palla ha colpito la scatola Sta girando Prendi vita e all'improvviso Oh! Chi sei? Ci sono molle ovunque Sono Bazzi Boh! Volete che vi insegni? Sono stato creato per fare canestro Guardate! Fatto! Bravo, Boxxy! Ancora uno! E un altro ancora! Sì! Boxxy Boo è un vero professionista I ragazzi hanno un grande allenatore di basket ora Usa i pezzi Lego Iniziamo con un cerchio Frecce Abbiamo stampato il modello della scatola Montala! Prepara il super gioco Qualcuno riceverà una bella sorpresa Margo è al portatile Posso finalmente avere un po' di pace e tranquillità I bambini non ti fanno mai annoiare Giochiamo! Evviva! Hanno fatto un vero casino Oh no! Il mio angolo di tranquillità Divertiti, sorellina! Ah, devo tenerli occupati Dove sta andando? Guardate cosa vi ha portato Just Dance Giocate e ballate Le ragazze devono capire le regole Cosa dobbiamo fare? Vi faccio vedere Seguite le frecce E ballate Capito? Che gioco entusiasmante Adesso Marco può riposare Lavora su questa vecchia bambola Disegna dei nuovi occhi Pastelli Rimuovi l'eccesso I nuovi capelli le stanno bene Ora l'abbigliamento Aggiungi un grande fiocco Megan è un androide È programmata per aiutare le persone La mamma di Katie è costantemente impegnata con il lavoro E a sua figlia manca Devo fare un business plan Mamma, ho disegnato noi due! Non ho tempo Oh, lei non ha mai tempo per me Pronto? Abbiamo bisogno di una nuova bambola androide Consegna Buona fortuna Ho una sorpresa per te, tesoro Wow, che bella bambola È stupenda Le ragazze si prendono per mano E la bambola prende vita Ciao Tu sei la mia amica Fantastico Vieni, ti faccio vedere tutto Giochiamo insieme? Certo Oh, siete diventate amiche davvero in fretta Questo è il miglior regalo del mondo Che abbiamo qui? Avremo bisogno di un braccio Togli la pittura Rimuovi tutto ciò che non è necessario Disegna le cicatrici Qualcuno ha bisogno di una manicure Il rosa va di moda Mettiamo lo smalto per unghie Ora nella lampada UV Ottimo risultato Che fashionista Ora le migliori decorazioni Gli adesivi sostituiranno il braccialetto Questa versione femminile di mano è sbalorditiva Ma Nina non sa cosa fare Magari può suonare il piano Fatto Guardare i social network Oh, un invito da parte di Mano È ora di prepararsi Nuova manicure Bellissima Mano sta aspettando la ragazza nel giardino magico Eccola che arriva Dei fiori meravigliosi Queste mani sono fatte l'una per l'altra Guarda quante cose rotte Diamo a questa bambola una nuova vita Rimuovi i residui di pittura Acrilico bianco Non vedo niente Una nuova faccia Wow Scegli l'argilla leggera Quella rosa Dipingi i capelli come un lecca lecca Decora con una ciambella Alla lampada Lavoriamo sui vestiti Inserti azzurri Cospargi il cuore Ehi, bella gonna Delle simpatiche calze a pua Conosciamo meglio questa bambola roba Come on Il parco divertimenti è pieno di visitatori Venite, venite tutti Chi vuole assaggiare il mio zucchero filato? Posso averne uno? Certo Ho un debole per i dolci Farò lo zucchero filato più grande del mondo Wow Grazie Questo ragazzo ha deciso di provare la sua forza Il premio sarà mio Oh no Lascia che ti aiuti Wow Super Il tuo peluche Grazie Questo è il giorno più bello della mia vita La piccola ha fatto cadere il suo gelato Cosa c'è che non va, tesoro? Il mio gelato Non essere triste Ecco, per te Nessuno sarà triste quando ci sono io A tutti piace passare il tempo con Susie Prendi un foglio di gomma piuma I petali danzano Crea un magnifico bocciolo e poi uno stelo Ridipingilo come un lecca-lecca Aggiungi delle foglie Questo fiore è perfetto per Susie Il mercatino è in pieno svolgimento all'Hally Town A dog Buonissimi a dog Susie passa di lì Oh, è lei I tuoi biglietti Fai un giro sulla ruota Il mio sogno si è avverato Grazie, Susie Come posso parlarle? Lo so Gioca e vinci un premio Posso farcela Per Susie Congratulazioni Cosa vuoi? Un fiore? Perfetto Susie Sei bella come una rosa caramellata Questo ragazzo ha conquistato il cuore del robot Sembra che abbiamo una nuova coppia Prendi un tappo di plastica Perline di legno Dipingi un pezzo di rosso Metti il quadrante Decora con un fiacco Questa simpatica sveglia sveglierà tutti i dormiglioni Kady si sta preparando per andare a letto Domani c'è scuola Devo andare a letto presto Sogni d'oro Bye bye La ragazza si addormenta Megan sta mettendo delle cose nello zaino Fatto Cambierà un po' l'ora della sveglia e lascerà dormire di più Kady Svegliati Kady Buongiorno La colazione è servita Il tuo zaino è pronto Cosa farei senza di te? Kady prende le sue cose Ciao Ci vediamo dopo la scuola Crea un nuovo pezzo Magia di Lalilu È diventato tridimensionale Arrotola un pezzo di argilla leggera Fai un muso Tingi il pelo di blu Che bel faccino Una lingua lunga Il gattino ama i dolcetti I Minion Stanno preparando i dolci Tartine perfette Prevo Il gatto ha sentito il buon profumino Oh no Ha mangiato tutto Cosa stai facendo? Gattino cattivo Fermati Dove stai andando? Susy ha deciso di visitare la fabbrica Ma invece dei Minion Ha incontrato un gatto spaventato Che carino Devo mostrarti ai miei amici Susy Ti stavamo aspettando Bel gattino Posso accarezzarlo Certo Un sacco di cibo Servitevi Le ragazze sono impegnate a parlare Mentre il gatto mangia tutto Che ti è piaciuto di più? Scrivilo nei commenti Scrivilo nei commenti